A Rossella Ferro, 110 anni di storia meritano evidentemente anche la pubblicazione di un francobollo. Abbiamo voluto celebrare questi primi 110 anni di storia anche facendo richiesta al Mise di poter vedere emesso un francobollo. Tra l'altro oggi in una giornata particolare che è il 25 ottobre che ricorre come ogni anno il World Pasta Day. Quindi la pasta celebrata in tutto il mondo. Abbiamo chiesto quindi al Mise di poter avere questo francobollo che puntualmente oggi viene messo ed è nella raccolta delle eccellenze del sistema produttivo ed economico dell'Italia. Avremo poste italiane che darà vita all'annullo filatelico e quindi siamo contenti di poter celebrare la storia perché la storia, le nostre radici sono fondamentali. Non è possibile guardare nemmeno oltre se non ci sono radici. No, per noi la storia che percorre più di un secolo sappiamo ha in sé insegnamenti, moniti, lezioni. Oltre a darci un bagaglio inestimabile di competenze che si tramandano di generazione in generazione, parlo in quel caso proprio di competenze tecniche che chiaramente sono fondamentali nello svolgimento quotidiano e nella visione del futuro del nostro lavoro. Don Enzo Ferro è un momento insomma celebrativo quindi evidentemente... Il pastificio è 110 anni ma il Molino è 112. Due anni in più. Due anni in più. Bisogna essere sempre precisi perché è vero quando si tratta di queste cose bisogna poi ricordare per evidentemente fare i riferimenti precisi alla storia perché questa è storia. Il problema è voler bene a Molise. Molise significa Molino perché i primi che vennero erano del Moulin Lamarque del cantone di Or in Francia. Sta pure il presidente francese oggi qui quindi meglio di così non si poteva sperare. Poi detto da un mugnaio... Una battuta. Non lo so. Voler bene al Molise significa vivere del Molise. E guardare avanti. Questa è la cosa più bella. Questa è la cosa più bella.